Musica Benvenuti al consueto appuntamento con le opportunità formative e le offerte di lavoro della provincia di Savona. Il centro per l'impiego di Albenga cerca tre addetti alle pulizie per impresa del ponente. Requisiti richiesti, titolo di studio assolvimento obbligo e scolastico, patente tipo B, auto propria, età minima 18 e da massima 60 anni. E' preferibile esperienza nel settore, contratto proposto tempo indeterminato part-time. Il centro per l'impiego di Savona cerca un meccanico per manutenzione e motori da camion. Requisiti richiesti, esperienza nel settore meccanico elettrico, patente tipo B, età minima 20 e da massima 60 anni. Esperienza richiesta tra i 2-5 anni, contratto proposto tempo determinato full-time. Il centro per l'impiego di Carcare cerca un autista aiuto magazziniere per ditta di cengio. Requisiti richiesti, titolo di studio assolvimento obbligo scolastico, età minima 25 e da massima 50 anni. Buone conoscenze informatiche, esperienza richiesta tra i 2-5 anni, contratto proposto tempo determinato full-time. Nuove opportunità di lavoro con botteghe di mestiere, iniziativa che si propone di favorire la riscoperta dei mestieri manuali attraverso la formazione sul campo. Un progetto voluto dalla provincia di Savona e coordinato sul territorio da Confartigianato Savona. All'interno di botteghe di mestiere, 30 giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 28 anni avranno l'opportunità di essere formati attraverso percorsi di tirocinio, nell'ambito di mestieri a vocazione tradizionale. In totale sono previsti tre cicli di formazione per una durata complessiva di 18 mesi per ciascuna bottega di mestiere. Per maggiori informazioni consulta il sito Formalavoro. Il portale Formalavoro mette a disposizione a cittadini, aziende e denti di formazione notizie riguardanti il mondo del lavoro a 360 gradi. Dalle offerte occupazionali provenienti dai trecenti per l'impiego della provincia di Savona, a tutte le opportunità per accedere a corsi di formazione professionali organizzati in tutto il territorio savonese. Per maggiori informazioni consulta il sito Formalavoro. Naturalmente queste sono solo alcune delle offerte che troverete visitando il nostro sito www.provincia.savona.it www.provincia.it